L'AIFA ha deciso di sospendere in tutto il territorio nazionale in via del tutto precauzionale e temporanea il vaccino AstraZeneca in attesa dei pronunciamenti dell'Agenzia del Farmaco Europea, l'EMA. Una nota dell'AIFA arriva a metà giornata in allineamento con analoghi provvedimenti adottati da altri paesi europei come ad esempio la Germania e la Francia. Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso, spiega la nota. L'AIFA, in coordinamento con EMA e gli altri paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione. L'organismo, conclude la nota, informerà sulle modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dosi. Il Ministero della Salute ha fatto sapere che si tratta di una misura esclusivamente precauzionale, decisa dopo un colloquio tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Ministro della Salute Roberto Speranza, che ha avuto colloqui con i Ministri della Salute di Germania, Francia e Spagna. Le scelte compiute e condivise oggi dai principali paesi europei su AstraZeneca, dice il Ministro Speranza, sono state assunte esclusivamente in via precauzionale in attesa della prossima decisiva riunione di EMA. Abbiamo fiducia che già nelle prossime ore l'Agenzia europea possa chiarire definitivamente la questione.